Amici carissimi buongiorno, siamo ormai a metà luglio inoltrato nel bel mezzo del caldo di quest'estate a raccontarvi le nostre felicitazioni per il grande successo che sta riscontrando dentro e fuori Apricena il cartellone estivo degli eventi culturali e spettacolari ed oggi vi comunichiamo con grande gioia quattro tra le più grandi manifestazioni che si terranno nelle prossime settimane, in particolare il 29 luglio ci sarà la Notte Bianca sul Corso Roma e Piazzale Andrea Costa, il 5 e 6 agosto con gli amici dell'Associazione Movidaunia il Carnevale Apricenese allieterà nelle nostre state cittadine con i carri allegorici. Il 18 agosto la grande festa per i giovani con un ospite d'onore il rapper Boroboro e il 2, 3, 4 settembre in zona Sacra Famiglia avremo la prima festa della birra, una manifestazione tutta nuova e infine mi preme ricordare la nostra grande partnership con la Ferrovia del Gargano, l'azienda qui adesso ci troviamo alla stazione dei treni via Apricena che metterà a disposizione dei treni fino a Notte Fonda per dare la possibilità da Foggia fino al Gargano di poter raggiungere la comunità apricenese e assistere, divertirsi in queste quattro serate. Vi invitiamo e vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie a tutti.